allora togliamo anche le ultime speranze ai detrattori purtroppo tra questi ci sono anche tanti tifosi dell'inter che sono già stati assaliti da delle gastriti importanti mi dispiace ragazzi curatevi allora la pronuncia innanzitutto è ficchiar centro idea vuol dire si sono attaccati a una postilla ovviamente i detrattori quelli che parlano dei bond rifinanziabili raddoppi bertarelli lasri tutte queste robette qui di cui ne parlano solo loro qui c'è un centro accademico di studi internazionale che se permettete è inattaccabile rispetto a chi parla di bertarelli raddoppi e discussioni di bond allora l'articolo richiama una nota la nota numero 23 nella allora la nota è di marzo 2021 loro fanno una relazione perché purtroppo dai soliti noti i soliti detrattori questo centro di studi accademico con partner internazionali loro lo hanno scambiato per un insider oppure per la gazzetta dello sport oppure per tutto sport che loro pensano loro non hanno capito chi sono questi no parlo dei detrattori loro pensano che questi siano dei giornali che fanno degli articoli vanno a riprendere delle notizie vecchie ti spiego perché loro nel punto 23 richiamano nella nota richiamano un articolo di marzo 2021 che era di bt ok detto in italiano nella relazione loro loro hanno comunque hanno fatto una stesura di una relazione fanno riferimento ad un accordo per l'acquisizione dell'inter definito a dicembre del 2021 loro dicono dicembre 2021 pif ha preso l'inter quindi riapitolando la relazione è del 4 ottobre 2022 e scrivono loro di un accordo venuto un accordo che è arrivato a dicembre 2021 seguimi come possono fare riferimento a quell'articolo di marzo 2021 non serve un genio per capirlo no loro ti diano guarda marzo 2021 già ne parlavano perché loro nella relazione di loro spontanea volontà ti diano è stato chiuso l'accordo a dicembre 2021 cosa che quell'articolo che riportano non dice quindi non serve una laurea poi ragazzi cioè a me dispiace anche per questa gente che ti fa inter accanirsi contro contro la verità perché purtroppo le cazzate le stanno dicendo loro oppure lo vedremo quando arriveranno chi le avrà dette le le cavolate quindi quest'articolo richiamato dalla nota 23 ragazzi andate a controllare serve all'autore della relazione per far capire che l'interesse dell'interi sauditi lo avevano già manifestato a marzo 2021 loro ti dicono guarda ti riprendo un articolo dove a marzo 2021 già si parlava di interessamento noi centro accademia ti diciamo noi che a dicembre hanno chiuso l'accordo non c'entra nulla quell'articolo lì capito sono dei poverini sono dei poveretti capito se poi la vogliamo dire tutta questa è una relazione approfondita pubblicata da un centro studi formato da accademici e indirizzata a lettori competenti di una certa qualità e cultura non a chiunque non per nulla un centro studi accademico tra l'altro il mio amico Beppe mi dice che loro compaiono anche sul sito Ipsa mi scrive il mio amico Giuse compaiono sul sito Ipsa Imola Palermo Savona Ancona chi chi darà dei cialtroni hai visto caro Beppe qualcuno già gli sta dando dei cialtroni ok e quindi è questo loro riportano un articolo di marzo e di loro nella loro nella loro relazione di loro spontanea volontà ti dicano noi ti diciamo che a dicembre è stato chiuso l'accordo perché quell'articolo riportano dice tutte altre cose loro ti dicano a dicembre è stato chiuso l'accordo purtroppo qualche detrattore ripeto li ha scambiati per insider questi non sanno nemmeno cos'è un centro di studi accademico con partner internazionali andate a vedere chi sono questi sono inattaccabili mi dispiace possiamo tirare giù la stracinesca indipendentemente ragazzi non ho la sfera di cristallo non lo so se arriva domani fra una settimana fra due se mi chiedi una mia sensazione ti posso tranquillamente dire non che non arriveranno tra tre mesi o quattro mesi secondo me arrivano a breve a stretto giro anche perché la situazione economica del liter questo canale riconosciuto da tutta youtube da tutto web ti ha spiegato a mena dito la situazione economica è un anno e ti spieghiamo la situazione economica dell'inter nel nostro piccolo insomma il nostro piccolo con dei professionisti abbiamo spulciato tutti i conti pegno contro pegno poi ci sono anche persone che ci attaccano e confondono il pegno di suning col pegno di gretorizo ma lasciamo perdere c'è gente non ci risponde sul pegno di osm non sapeva chi fosse la glass trust esiste non esiste vai a contrastare questa a questi qui vai da questi ci sono dei giornalisti importanti che si sono già messi in contatto andate a dare dei cialtroni a questi qui eh ma ripigliano l'articolo di pt sì ma loro ti diranno che a dicembre è stato chiuso tutto ti spiegano perché hanno preso l'inter ti spiega perché hanno preso il newcastle non sono degli insider studiate informatevi cercate di capire chi sono questi qui prima lo accetti e meglio è direttamente su Gosens ragazzi io io sono sempre stato contro l'acquisto di Gosens lo abbiamo detto miliardi di volte anche lì no a Giuse non puoi ritirare un giocatore Mel Gosens a gennaio ha chiesto di andare via poi dal dia a dire che lo vedremo in un'altra squadra ce ne passa perché comunque è stato un acquisto importante sono stati spesi 25 milioni per un esterno quindi sono tanti soldi non è che lo puoi regalare a giro bisogna e tu trovi per forza come si dice nelle nostre parti bisogna trovare qualcuno e ti dà un po' di grano altrimenti dove lo vuoi mandare Gosens tanto con Inzaghi non gioca quando te lo dicevo io che non sono nessuno ti dicevo indipendentemente dal discorso fisico Gosens è un calciatore che a Inzaghi non piace poi dopo Gosens è stato anche sfortunato perché c'è stata l'esplosione di Di Marco che a mio avviso lo vedo molto meglio come esterno di centrocampo e come esterno di difese di difesa per le caratteristiche che ha e quindi Gosens dove può dove va ha perso anche la nazionale quindi è giusto che torni in Germania e vada a giocare l'Inter deve limitare i danni non te lo può dare gratis giocatore a 28 anni ancora è giovane ha un ingaggio importante si vuole riconquistare la nazionale sicuramente di fare tutto il girone di ritorno in panchina non gli va e quindi è giusto separarsi come è giusto separarsi anche con te caro ballerino parliamoci sinceramente ballerino detto fuori dai denti anche te ti devi separare dall'Inter cosa cosa vuoi fare all'Inter quando entri in capo sembra tu ci faccia un piacere ballerino parliamoci chiaro bisogna bisogna separarsi è finita ballerino è finita anche per te ciao vinti ha 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 ha